Merda, fa 71. Veramente io ho detto cacca. Fa sempre 71. Poi se non mi sbaglio ci stanno i carabinieri. Così mi sembra. Allora fanno 36. Erano due e stavano a cavallo. Stavano a cavallo? E voi ma ve li fate uscire questi cavalli? I carabinieri a cavallo fanno 20. Voi mi avete detto i carabinieri a piedi che fanno 36. Ma che facciamo? Se abbiamo 20 e 36 ce li vogliamo giocare tutti e due. Facciamo due carabinieri a piedi e due carabinieri a cavallo. Voi dovete avere pazienza. Il sogno non è mio. Non è cosa? No, è di mia sorella. Io gioco sempre ma non sogno mai. E allora quando voglio giocare vado da mia sorella la sera e le dico Carmilì fatti un bel sogno e così io gioco domani i 5.000 list. D'accordo signora ma bisogna essere precisi. Qua ci stanno i carabinieri in Africa che fanno 56. I carabinieri arrestati. I carabinieri con la trompa suonavano la trompa. I carabinieri. Carmilì, tenevano la tromba. Eh? La tromba? No, non erano le trombettine. Stavano in alto uniforme. Com'erano vestiti questi carabinieri? Carmilì, com'erano vestiti questi carabinieri? Tenevano il pennacchio. Eh? Il pennacchio rosso e blu. No, tenevano le penne. E penne? Allora erano bersaglieri, non erano carabinieri. E quello fanno 85. Carmilì, Carmilì, ma tu che vuoi da me? Eh, ma allora questi erano veramente bersaglieri. Sì, erano bersaglieri a cavallo. Non esistono i bersaglieri a cavallo. E quello per questo è un sogno. Maia del Dio! Maia del Dio! Maia del Dio!